salve a tutti nelle ultime due lezioni ci siamo addentrati nel tema dell'homelessness vi ho presentato le caratteristiche della principale letteratura italiana e statunitense statunitense sul tema e nell'ultima lezione vi ho presentato l'oggetto e i metodi utilizzati nella mia ricerca si è trattato di una ricerca etnografica molto lunga sulle strategie di sopravvivenza negli homeless in italia e in colombia la parte relativa alla colombia è ancora un campo etnografico un campo di osservazione aperto in questa lezione ci occupiamo delle principali ipotesi attorno alle quali si è sviluppata tutta la mia ricerca come sappiamo poiché si tratta di una ricerca etnografica molto qualitativa dal punto di vista metodologico e con un approccio quindi di tipo induttivo le ipotesi sono di fatto delle proposizioni generali che rappresentano un po le conclusioni e i risultati finali di tutto il lavoro se qualcuno volesse dare una rifrescata agli aspetti metodologici della ricerca in sociologia lo può fare andando a rivedere andando a vedere la lezione sui metodi della ricerca sociale all'interno del corso di sociologia presente nel canale youtube immaginazione sociologica o anche all'interno delle pagine della didattica di un icz didattica online per un icz ma torniamo all'oggetto di questa lezione e alle ipotesi della mia ricerca sui omnes prima ipotesi gli attori di strada sono soggetti di strategie selettive di adattamento e sopravvivenza sono pochi gli autori che mettono in evidenza la capacità strategica di adattamento per la sopravvivenza nella vita di strada da parte di chi per scelta o per necessità sulla strada vive la propria marginalità eccezione fatta per il celebre lavoro di nelson del 1923 per poche altre fortunate ricerche ricordiamo in particolare quella di snowy anderson quella di wagner quella di rosenthal per quanto riguarda le ricerche che hanno avuto in modo specifico per oggetto lo studio dell'homelessness tra le indagini etnografiche che si sono occupate di marginalità di strada senza però avere come oggetto specifico e senza dimora ricordiamo il classico lavoro di william foot white sugli abitanti di cornerville street corner society e anche la ricerca di philippe bourgois sugli spacciatori di crack di starlem il titolo del libro che è uscito in search of respect è stato anche tradotto in italiano rispetto in cerca di rispetto mentre gli aspetti della capacità strategica per sopravvivere da parte degli attori di strada sono stati costantemente sottovalutati dalla letteratura scientifica in materia nella mia ricerca emerge la figura di un attore razionale che in condizioni di vita estrema riesce a mettere in pratica tutta una serie di azioni particolarmente raffinate talvolta particolarmente complesse seconda ipotesi i gruppi sono soggetti a composizioni ricomposizioni crisi rotture i gruppi sociali cioè non sono realtà statiche ma fanno parte di processi continui di trasformazione di creazione da parte dei singoli attori questi si aggregano si organizzano secondo una stratificazione interna si danno delle regole nasce il gruppo il quale tuttavia nel tempo entra in crisi muore nasce una nuova vita con nuove regole eccetera il gruppo si struttura entra in crisi si ricompone eccetera per cause interne ma anche per cause esterne i gruppi quindi si trasformano e muoiono attraversando le tante e diverse fasi del processo di vita che li caratterizza vedremo tutto ciò sia con riferimento ai gruppi organizzati di homeless in italia sia con riferimento alle gang di strada di bogotà e di cali in colombia nonostante si tratti di due realtà molto differenti tra di loro esistono delle comuni caratteristiche relativamente alla trasformazione dei gruppi altre ipotesi il leader è colui che promuove il consolidamento del gruppo ne delinea la stratificazione interna divenendo così indispensabile per la sopravvivenza del gruppo stesso è il leader che gestisce la stratificazione interna del gruppo consolidandolo rafforzandolo e creando così presupposti per la sua sopravvivenza la sua presenza diventa indispensabile per l'esistenza stessa del gruppo se non c'è un leader in grado di fare tutto ciò allora il gruppo muore nella mia nella ricerca italiana nella parte italiana della mia ricerca approfondiremo l'analisi della leadership carismatica di saeed senza dimora algerino berbero senza gambe amputate in seguito ad una malattia incurabile che è il leader di un gruppo di homeless nella piazza di spaccio di eroina principale di trento e dall'altra parte vedremo come anche nelle gang colombiane emergano figure carismatiche di leadership sulle quali si radica la solidità e la capacità di sopravvivenza in strada di diversi gruppi di homeless appunto nel caso specifico in colombia con riferimento al caso colombiano in particolare vedremo come l'appartenenza alla gang diventa un elemento importantissimo per la mobilità sociale all'interno delle reti sociali della strada altre ipotesi il leader di strada è un abile manipolatore un manipolatore sociale che gestisce a proprio vantaggio il controllo che ha delle relazioni del gruppo il leader infatti manipolando norme relazioni ricava un chiaro profitto dalla sua attività di leader manipolatore mediatore sociale all'interno delle reti di strada si tratta di un profitto sia materiale che simbolico la capacità di manipolazione delle relazioni si manifesta spesso con la capacità del leader di lavorare sulle emozioni dell'altro ma anche sulle proprie accenneremo quindi a questo proposito a un concetto quello di emotional labor lavoro sulle emozioni che però approfondiremo in modo specifico successivamente in modo appunto più dettagliato nella parte del corso dedicata alle strategie di sopravvivenza nel campo della prostituzione altre ipotesi perché un gruppo si consolidi deve avere delle norme le norme del gruppo permettono ai suoi membri di avere dei chiari punti di riferimento indispensabili alla sopravvivenza alla compattezza e alla coesione interna del gruppo stesso ciò appare particolarmente vero nella sopravvivenza della vita di strada attorno a tali norme il gruppo si consolida permettendo in questo modo ai suoi membri di esercitare un potere anche nelle relazioni esterne al gruppo stesso si tratta di norme che vanno dall'indicare chi fa cosa rispetto alle strategie di sopravvivenza in strada fino al modo in cui bisogna rapportarsi agli altri in generale le norme sulla comunicazione norme sulla visibilità in strada norme sul rispetto delle posizioni sociali occupate e più in generale sulla stratificazione sociale per strada altre ipotesi la società di strada è distinta e ben separata dalla società normale la strada in colombia e in italia si presenta infatti nella mia ricerca come una società ben definita e separata dalla società normale dalla sua cultura mainstream la separazione tra la società normale la strada è garantita anche dall'azione di particolari istituzioni della società normale quest'ultima infatti in genere focalizza il proprio intervento in azioni di controllo e repressione dell'homelessness invece che in azioni di aiuto e riabilitazione a protezione tutto della nostra per dirla con Foucault società disciplinare i gruppi di strada in contesti del genere si presentano come portatori di norme e di valori di una sottocultura che talvolta assume i tratti specifici di una contro cultura i gruppi di strada si fanno portatori cioè di una sottocultura basata su valori e norme che manifestano una resistenza nei confronti delle istituzioni dominanti della nostra società regole burocrazia forme familiari tradizionali eccetera qualcuno ha definito questa sottocultura come una vera e propria cultura della resistenza e Wagner che lo ha fatto per le strade italiane come per quelle colombiane si può parlare in certi casi a questo proposito della presenza di una vera e propria contro cultura altra ipotesi la vita di strada si sviluppa in una situazione di deficit di socialità in cui è probabile che sorgano iniziative dell'attore volte a creare nuove forme di capitale sociale nel sistema sociale di strada caratterizzato da una notevole conflittualità mobilità scarsità di beni simbolici materiali eccetera gli attori di strada agiscono razionalmente creando interpretando strategie di comportamento che permettano la sopravvivenza e in situazione di deficit di socialità in periodi di dissoluzione dei rapporti sociali caratterizzanti la società nel suo insieme che è probabile che sorgano iniziative volte a ricostituire capitale sociale in forme nuove che facilitano cioè l'azione per il perseguimento di fini ben precisi che per gli homeless sono ovviamente principalmente il procacciamento del cibo trovare un luogo sicuro in cui dormire ottenere sostegno emotivo protezione amicizia eccetera e sono proprio i gruppi di strada che creano e detengono capitale sociale il capitale sociale è quindi una risorsa fondamentale per la sopravvivenza in strada ed è viene creata e detenuta dalle dei gruppi e dalle dalle gang altre ipotesi i gruppi di strada si riproducono sempre nonostante il tentativo di intervento dei servizi sociali abbiamo detto che il consolidamento del gruppo avviene attraverso le norme e le regole condivise dagli attori che ne fanno parte i servizi sociali nonostante i loro tentativi di intervento non riescono ad intaccare la solidità dei gruppi di strada anche quando i gruppi muoiono se ne riproducono subito degli altri gruppi di strada infatti si strutturano con regole specifiche che sono in contrasto comunque diverse da quelle a cui si ispirano i servizi sociali i principi di equilibrio stabilità struttura a cui fanno riferimento i servizi sociali e più in generale l'amministrazione pubblica mal si adattano alla comprensione e all'intervento su una realtà dinamica processuale e in continua trasformazione come quella di strada una realtà che sulla strada permette il formarsi di un progetto di vita alternativo a quello predisposto dai servizi sociali altre ipotesi non esistono servizi sociali in grado di entrare in contatto e di intervenire i servizi sociali esistenti come abbiamo già detto non riescono a intervenire perché non sono adatti all'intervento su strada sono numerose le barriere burocratiche culturali eccetera che si frappongono al contatto tra i servizi sociali e senza dimora un noto esempio italiano la negazione del diritto dovere dell'iscrizione anagrafica per senza dimora viene così precluso a questi ultimi l'accesso a numerosi servizi socio assistenziali ma viene anche precluso ad essi di godere di alcuni diritti fondamentali come il diritto di voto la possibilità di beneficiare delle pensioni di invalidità l'accesso al sistema sanitario nazionale andiamo avanti con le ipotesi la società normale focalizza il proprio intervento sul controllo dei senza dimora piuttosto che sull'aiuto e sulla riabilitazione l'intervento dei servizi sociali si sviluppa principalmente nell'esercizio di funzioni di controllo controllo dell'accesso ai servizi controllo della visibilità dei senza dimora spostando in secondo piano gli obiettivi dell'aiuto e della riabilitazione non si sottrae a questa logica il privato sociale che spesso schiavo diciamo così del finanziamento pubblico che è necessario alla sua sopravvivenza spesso perde ogni sua prerogativa di voce critica e libera nei confronti della pubblica amministrazione unica forma estrema di intervento perseguito e in ultima analisi quella del controllo e della repressione a garanzia e protezione della nostra società disciplinare per citare fucò la gente di strada continua a girare perennemente nel circuito circolo vizioso costituito da ospedali appartamenti protetti comunità dormitori strada carcere eccetera un circuito all'interno del quale la strada costituisce l'unico momento di di concreta libertà andando a un contesto molto diverso dove i servizi sociali funzionano in modo molto diverso parlando cioè della colombia addirittura abbiamo dei casi estremi di repressione nei confronti della della vita di strada è chiaro che non è un esempio legato all'intervento ai servizi sociali ma è una risposta estrema quella che vi sto presentando una risposta estrema della società fra virgolette normale di una parte della società normale nel confronto nei confronti dei dei homeless stiamo parlando del fenomeno della cosiddetta limpieza social consiste nella pulizia sociale di una strada di un quartiere di una zona della città attraverso l'uccisione di quei soggetti chiamati desechables desechable è un termine spagnolo che letteralmente significa usa e getta si tratta della categoria di homeless che occupa le posizioni più basse nella società di strada ladi prostitute omosessuali eccetera che vengono considerati dannosi per il vivere sereno della normalità quotidiana di quel territorio gli attori che seguono la limpieza sociale quindi quelli che uccidono gli homeless sono sicari ingaggiati da coloro gruppi di commercianti vicinato polizia eccetera che hanno un qualche interesse principalmente economico e o politico a che certe categorie di persone spariscano da alcune zone della città ricordo quello che mi ha detto carlos 26 anni un basuriego cioè un homeless colombiano che vive riciclando i rifiuti lui viveva a cali mi ha parlato così della limpieza sociale diceva tutti possono uccidere in tanti modi si può uccidere con un colpo di pistola alla testa oppure come succede a volte negli ultimi anni del periodo in cui mi parlava buttando della benzina nei tombini dove si fuggiano i bambini di strada i desechables durante la notte e dando fuoco bruciando tutto e tutti a volte diceva ti avvertono prima di fare queste azioni estreme con delle scritte sui muri vicine a dove dormi cioè ti dicono dei volantini si chiamano pamfletos che vengono lasciati alle fermate degli autobus oppure per terra o alle cabine telefoniche pubbliche in questi volantini vieni minacciato di andartene da quella zona se no sarai ucciso annunciano cioè la prossima limpieza la prossima limpieza sociale a volte quelli della limpieza sociale vi diceva sono membri della polizia vestiti con abiti civili a volte la polizia stessa ovviamente nel contesto italiano non esistono situazioni estreme come quella della limpieza sociale certo si verificano però casi di violenza brutale nei confronti degli homeless ma non sono casi sistematici in generale però sia che si tratti di un contesto europeo che di un contesto latino americano la società normale appare isolata e si protegge in varie forme da quella degli homeless homeless che vengono ritenuti fuori fuori da essa vengono ritenuti tenuti fuori da essa anche attraverso pratiche più o meno burocratiche più o meno violente i senza dimora quindi dal canto loro tentano di sopravvivere perché devono sopravvivere e sopravvivono in una società a parte una vera proprietà una vera e propria società altra all'interno della quale sviluppano tutta una serie di tecniche e pratiche quotidiane di sopravvivenza che andremo ad analizzare nel dettaglio ovviamente nelle prossime lezioni per quanto riguarda la bibliografia di questa lezione vi rimando al testo sopravvivere in strada e allegherò anche nel sito della didattica un icz un articolo metodologico sull'osservazione partecipante per quanto riguarda la parte colombiana ribadisco ancora non è stata pubblicata termina qui la lezione di oggi grazie per l'attenzione e buon lavoro